Quello che vediamo qua è lo smartphone Palm Pre Plus, realizzato dalla Palm, uno smartphone totalmente touch, come vediamo, che utilizza WebOS come sistema operativo, sistema operativo basato su applicazioni, qua vediamo quelle classiche tipo messaggi web, videocamera, ci sono dei giochi dell'Eletronic Arts, hanno appena chiuso un accordo, c'è Facebook. Il MacBook è multitasking, touchscreen, ha una tastiera QWERTY nella parte bassa e una delle caratteristiche interessanti è senza dubbio la presenza all'interno del sensore di induzione che ti permette di ricaricarlo senza fili, basta attaccare il Palm alla sua base di ricarica, lui automaticamente entra in modalità ricarica, quindi come si vede qua sotto subito quando lo attacchiamo compare Charging Batteries. Un dispositivo leggero, molto pratico, bello al tatto, ben costruito, con un sistema operativo per smartphone decisamente intelligente ed innovativo.